Io nella mia giovinezza, cioè a Todi, quando ero già a Todi, leggevo Elsa Morante naturalmente, la leggevo e la ammiravo immensamente. Leggendo i suoi libri vedevo in lei un genere di sguardo che avrei voluto si posasse su di me, avrei voluto essere guardata come lei guardava i suoi personaggi. E quindi dicevo, a un certo punto della mia vita uno di questi amici mi ha detto vieni, vieni, Patrizia, vieni, che ti faccio conoscere Elsa. Lei mi ha accolto, con un certo sospetto all'inizio, mi ha accolto nella sua vita. E per me si è aperto un periodo sublime, sublime. Ossia, io che prima ero sola, non ero più sola. Io che avevo solo questi amici americani, si è aperto il mondo, si è aperto il mondo, si è aperto il mondo, ho conosciuto tutte le persone che poi sono diventati i miei più cari amici. Carlo Cecchi, Ginevra Bompiani, Giorgio Agamben, Alfonso Berardinelli, Bice Bricchetto, Angelica Ippolito. Si sentiva che se Elsa vedeva certe persone o le accoglieva, c'era qualcosa comunque in comune tra queste persone. E questa era una meravigliosa sensazione. Avevo degli amici, c'era Elsa che ammiravo pazzamente, ammiravo tutto di lei. E quindi stavo, ero felice, insomma, diciamo che ero felice da questo punto di vista. E mai le avrei detto che io scrivevo, perché io ho sempre scritto da bambina, ho sempre scritto, ma così, come un'attività. Ma mai mi sarei sognata di dirle che io scrivevo, perché avevo visto varie volte i suoi furori di fronte alle scritture improprie o alle ambizioni sbagliate. E quindi avevo il terrore, terrore, per carità, che venisse meno questo stato di grazia. Fatto sta, però, dopo un anno, non so come, a un certo punto lei mi ferma per strada, mi blocca, mi sbatte quasi contro il muro e mi chiede, ma insomma tu che fai? Io studiavo filosofia, insomma, quindi tu che fai vuol dire, oltre a quello, tu che fai? Come giustifichi? Come te la mi... Che cosa mi dici per giustificare il tuo... E io, per un istinto, non so di che genere, se giusto o sbagliato, ho detto, beh, scrivo poesie, scrivo poesie. E lei mi ha guardato molto crudelmente, mi ricordo, con un grandissimo, con un sorrisetto terribile, terribile. E mi ha detto, no, sì, scrivi poesie. Ah, bene, allora fammele leggere, non perché mi interessino per motivi letterari, sai, ma voglio vedere come si è fatta. Il che per me voleva dire la morte. Ho cominciato a guardare quello che scrivevo, quello che scrivevo mi sembrava mostruoso. Improvvisamente, guardandolo con gli occhi di chi deve giudicare, ho detto, ma queste sono delle schifezze, non gli piaceranno mai. Fatto sta, sono passate sei o sette mesi. In questi sei o sette mesi io ho cominciato a scriverle, questa è la verità. Quelle che avevo non valevano niente. Mi sono messa come in una specie di esercizio proprio dello spirito, un esercizio della preghiera, dell'ascolto. E ho detto, qua io devo trovare le parole, devo trovare le parole giuste. Avrei voluto imbrogliare, fosse per me, perché io in fondo sono una persona che abbastanza forse inclina all'imbroglio, potendo, però sapevo anche che non era molto imbrogliabile Elsa, non era certo una persona che gli si poteva dare a bene. Quindi dovevo davvero trovare le parole che fossero più reali rispetto al mio essere, rispetto alla poesia. E poi ho fatto un gruppetto di poesie piccole, forte, pensando che ci fosse meno rischio nella brevità. Gliel'ho portata, gliel'ho portata e dopo mezz'ora mi ha telefonato e mi ha detto questa frase, appunto, famosa frase, ma la sanno tutti perché lo racconto destra a mano, questa frase che sono felice Patrizia sia una poeta. Io ho fatto un sospiro di sollievo pazzesco, perché naturalmente che io fossi poeta, sì, mi poteva anche far piacere, però era il sollievo. Ossia l'idea che oramai non correvo più rischi, non correvo più rischi di poeta, sapevo quanto era importante la poesia per Elsa, per tutti gli amici. Ormai avevo pure un titolo e quindi di questo titolo mi vantavo e mi sentivo ben al sicuro dentro quel grembo. beymbo.